Acqua e Sapone vorrebbe che questo Natale fosse un nuovo inizio. Basta i temori e le paure, ma soprattutto basta la violenza sulle donne. Nell'ultimo anno sono stati commessi 125 femminicidi, un ogni tre giorni. Insieme, diciamo basta la violenza sulle donne. Acqua e Sapone ha deciso di donare 250.000 euro alla Fondazione Onlus Doppia Difesa di Michelunzica e Giulia Buongiorno, che aiuta le donne vittime di violenza fornendo primo aiuto, consulenza e assistenza legale e psicologica. Aiutaci a diffondere il nostro messaggio. Decora il tuo Natale con le 12 palline natalizie Acqua e Sapone Forciariti che trovi in omaggio solo ad Acqua e Sapone fino al 9 dicembre. Cerca i prodotti in promozione delle aziende che affiancano Acqua e Sapone in questa iniziativa. Acquistandone due riceverai subito in omaggio una pallina natalizia Brandani Acqua e Sapone Forciariti. Decora il tuo Natale insieme ad Acqua e Sapone per dire basta alla violenza sulle donne.